Il cake design sicuramente è un campo molto affascinante perché abbina al gusto delle cose dolci il gusto per l'estetica quindi è sicuramente una materia che affascina sempre di più sia chi la coltiva con passione sia chi poi come me ne ha reso un'attività e quindi sempre di più tenderemo a fare torte articolate, belle esteticamente, sempre più complesse e sempre si spera più buone. Nei miei corsi ho avuto anche parecchi uomini e devo dire anche parecchi ragazzini, bambini, comunque maschi perché faccio anche corsi per bambini quindi c'è un interesse un po' generalizzato poi per i bambini soprattutto è un po' come giocare con la plastichina, con il didò quindi sono molto attratti da questo tipo di attività. Trovo molto entusiasti i cake designer italiani, hanno un approccio innovativo e hanno un innato senso dello stile e tutto ciò è molto positivo. Del resto Milano è la capitale della moda e dello stile nel mondo perciò qui in Italia ho trovato parecchi cake designer che fanno un fantastico lavoro. Il cake designer è nato come trend qualche anno fa ma sempre più persone ora cominciano ad apprezzare queste torte che sono davvero belle e credo che questa tendenza continuerà.